Io non so, cari amici, quanti saranno dalla sua parte, ma qui c'è stata una vera ondata social che si sta battendo sulla piattaforma Twitter. Riguarda Manuel Burtuzzo e, anzi, più precisamente lei, cioè Angelica Benevieri, finita nella bufera per una scoperta fatta da alcuni utenti. Poi di lei ne avevamo già parlato ultimamente, insomma, già agli ultimi di agosto ne stavamo parlando. Insomma, lei, la giovane tiktoker che è stata protagonista in passato di un gesto considerato da molti irrispettoso e che in un certo senso diventa oggi paradossale, visto che la sua dolce metà è proprio l'ex vippone, cioè Manuel Burtuzzo. C'è un video che sta spopolando e i commenti della gente stanno diventando sempre più di un certo peso. Manuel non ha rotto il silenzio su questa vicenda, ma la sua fidanzata Angelica non avrà poche difficoltà per uscire fuori da questa bufera. Già nei giorni scorsi c'era stata una grande polemica, perché lei si era mostrata sui social con lo stesso identico vestito, guarda caso, di Lulù, se la si è. E questo si sa, fa scattare la polemica, ma è automatico. La reazione di Deia Nera Marzano non si è fatta attendere e ha detto No, vabbè, ma la fidanzata di Burtuzzo, ma che fa? Si mette lo stesso vestito di Lulù. Ma non avevi altro da metterti. Ma tutto a posto. Ma torniamo a noi. In pratica, nelle ultime ore è stato riportato alla ribalta un video che riguarda proprio la dolce metà di Manuel, la fidanzata Angelica Benevieri, che è di una bellezza incredibile, perché lo dobbiamo ammettere, lo dobbiamo dire, e la famiglia di lui pare che abbia approvato la sua figura. Solo che qui spunta la bufera mediatica, causata anche e soprattutto dai fan dell'ex di lui, cioè Lulù se la si è. Hanno spucciato il profilo TikTok della ventenne e che cosa hanno visto? Hanno visto un video compromettente. Certo, c'è adesso a chi aspetta che lei possa uscire in qualche modo allo scoperto, almeno per dare alcune informazioni, se possibile. Nel filmato in questione, della durata di pochissimi secondi, si può vedere Angelica mentre fa il suo ingresso in un bagno destinato alle persone disabili. Quando si rende conto che non è la toilette per normodotati, finge di non camminare bene e inizia a muovere velocemente le sue braccia e a mettere in modo storto le sue gambe, trasformandosi così in una disabile. E dopo queste immagini sono stati scritti diversi messaggi contro la giovane che ora dovrà, beh, in qualche modo difendersi dagli attacchi, ma questo era palese, signori. E allora, alcune reazioni dell'infuriato popolo del web ve le devo leggere assolutamente, tipo, le persone disabili non vanno prese in giro nemmeno per scherzo, cosa verissima. E meno male che questa ragazza per Manuel è un angelo. Scusatemi, ma l'età non c'entra nulla, non c'è mancanza di maturità, ma di empatia. Curioso di vedere se la famiglia di lui rilascerà qualche intervista dissociandosi dagli azioni della ragazza. Beh, io, signori, beh, per quanto mi riguarda spero proprio che sia così, cioè nel senso non possono stare dalla parte di lei, ha fatto una scorrettezza, anche abbastanza grande. E allora, lasciate anche il vostro commento qui sotto, nel frattempo vi ringrazio per l'ascolto di questo video, noi ci sentiremo alla prossima news, sempre qui.